Proporre alle coppie in crisi o già separate un cammino penitenziale, una riflessione sulle conseguenze per i figli, sulla riparazione dei torti di un coniuge nei confronti dell'altro e sulla richiesta di perdono a Dio. È stata la proposta pastorale di alcuni dei 32 padri sinodali intervenuti nella congregazione generale di giovedì pomeriggio del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. Un percorso penitenziale da accompagnare a un sostegno per i divorziati rimasti soli, che spesso soffrono in silenzio. È stata poi ribadita con forza la condanna della manipolazione genetica e della crioconservazione degli embrioni e l'importanza che la Chiesa faccia sentire sempre la sua voce di denuncia. In molti hanno anche denunciato che in Africa alcuni paesi e organizzazioni occidentali presentano l'aborto e l'unione omosessuale come diritti umani ed è stata ribadita la necessità di promuovere i metodi naturali di regolazione della fertilità accanto alla non accettazione della contraccezione. Nella mattinata di venerdì è stato approvato un messaggio dei padri sinodali e di tutti i partecipanti per le famiglie che soffrono a causa del conflitto in corso, soprattutto in Iraq e Siria. Accanto alla preghiera per chi, a causa della propria fede, è costretto ad abbandonare tutto e a fuggire, nel messaggio si chiede alla comunità internazionale di ristabilire la convivenza pacifica e di offrire la necessaria assistenza alle vittime innocenti della barbarie nato. In aula sono intervenute sei coppie di uditori e nove uditori singoli. È stata messa in luce l'importanza della testimonianza delle coppie cristiane nella formazione e nell'accompagnamento delle giovani famiglie. La Chiesa, è stato detto, deve ascoltare di più i laici nella ricerca di soluzione ai problemi delle famiglie, in particolare per quanto riguarda l'intimità della vita di coppia. Ed è importante che i laici siano attivi nella promozione pubblica dei diritti della famiglia e nella difesa della vita. Nella seconda parte della mattina sono stati avviati i lavori dei circoli minori, tre in inglese, tre in italiano, due in francese e due in spagnolo. Grazie. Grazie.